Torna ad attualità la mancata approvazione dei contratti di servizio di Alba scaduti da tempo. Nei giorni scorsi, attraverso apposita istanza, CGL e Cisle Will hanno chiesto un incontro urgente alla sindaca di Battipaglia Cecilia Francese e all'amministratore unico della società partecipata dal comune Palmerino Belardo. Alla base della richiesta, la mancata convocazione di un tavolo di confronto, immaginato nell'ultima riunione prima delle vacanze estive, e la necessità di mettere mano alla questione dei contratti di servizio, chiamati ad essere approvati dal Consiglio Comunale. Tale situazione, quanto si legge nella lettera, non permette di svolgere l'attività lavorativa in condizioni gestionali e programmatorie adeguate.